salve amico mio come al solito ti chiedo di iscriverti mettere un like e condividere se ti piacciono questi contenuti dal 24 marzo troverai nei supermercati di nuovo il tagliabordi parkside io te lo consiglio perché l'ho acquistato scusa circa un anno fa forse anche qualcosina in più ed ho pagato molto di più ora costa 25 euro 24 euro e 99 centesimi senza batteria e senza carica ma io ti assicuro che l'ho pagato 30 euro 30 o 35 non mi ricordo questo e puoi comprare anche batterie carica batteria e sempre a 25 euro funziona con tensione di 20 volt e questa batteria costa 25 euro insieme a carica batterie e 2 ampere per ora ti vengono dati insieme al tagliabordi e te lo posso testimoniare funziona anche bene lo sto usando da da più di un anno due rocchetti di filo di ricambio sono piuttosto piccoli dico la verità però comunque puoi considerare che per un po non avrai il problema di cercare i rocchetti di ricambio perché come ben sai trovare pezzi di ricambio par side quello è un problema io e rocchetti di ricambio non li ho mai visti da vendere funziona bene ripeto io ne ho un altro di marca works che funziona meglio certo però è costato con batterie carica batterie 99 euro e 99 quindi 100 euro io ti ripeto ho pagato 30 o 35 euro il tagliabordi e poi 25 euro batterie carica batterie e francamente anzi mi sembra addirittura che l'ho pagato 35 euro un anno e mezzo fa perché perché a 25 euro andavano come il pane quindi li alzarono 30 euro poi a 35 ora li hanno ribassati perché probabilmente a 35 euro insomma non riuscivano a venderne molto purtroppo ovviamente devi ragionare col tuo cervello la legge della domanda e dell'offerta è questa il prezzo non dipende da dalle caratteristiche del prodotto ma da quanto l'offerta è superiore alla domanda ripeto io mi sono trovato bene e lo sto ancora usato puoi guardare sul mio canale la recensione dell'apparecchio dopo diversi mesi dall'utilizzo e quindi ce l'ho realmente ovviamente tu devi sempre pensare con la testa tua perché il tuo miglior amico è sempre il tuo cervello a presto ciao a presto